musica Allora, allora, va a fare musica Salve gente del tubo Sono io Mister Ultra Cups, tornato con un video speciale Perché Toc toc, toc toc Speciale, perché non è speciale veramente Voglio entrare Ok Ora sono dentro Va bene, allora Sono sempre io, Mister Ultra Cups Tornato con voi in un nuovo video speciale Di The House 1, però Ma mi chiederete, perché The House 1? Hai già fatto The House 2? No, rompe il cazzo Avete ragione, non dovrei rompere il cazzo Ma è così Va bene Va bene, ho capito Questo è il primo gioco Sì, va bene Non si scassa lo cazzo Guardate qua, sta a parare il culo Vedete, esce il bimbo minchia To Va bene Va rivederci To, non mi fa paura sto gioco Finito? Oh Chi è quello là? Non mi ha fatto paura Non fai cagare Cioè, sto gioco fa cagare Allora Ah, happy birtad Per the time, mom We We Can Know That You Suffer From Illness But Where Sure That You Will Be Be Fine Son Love You Con questa Questo love you Mi piace Poison up I love Certo Ancora ho fatto nulla Il bagno è libero E vai a cagare Ho fatto ancora nulla Sto scritto un cazzo Ciao Ciao Sto salutato Ciao Ciao Dammi 5 Date il 5 allo schermo Una minchiata assurda Ma è la dura vita Questo è il posto più medoso di tutti Allora Questo è il È un nuovo Sembra 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 di comode Proversi sposi No, no Vi chiedo scusa Ma È un po' a farci caso Sembra proprio così Allora Questa è bambola di mer Bambola di mer Oui Ciao Ehi Vieni qui Figlio di una Vieni qui Ma guarda Sto strano Ma guarda Tu Questa Chi Carre Entra Spermendo Quello che è Questa è la carta Di Santa Maria Scott Della School Student Di Card Name Miss Maria San Giulietta Eccetera Eccetera Va bene Va bene Capito Il gioco Ti dà Un'attesa Profonda Fai del foglietto E poi esce qualcuno Dai Non mi cago sotto Lo sto registrando in prima persona E non fa cacare Sto gioco Ehm No Comitiamo La radio Maria Oh La radio Più o meno Ascoltata Dov'è il tasto D'accensione Ora radio Maria Seguimi Segui il dito Sorry And Goodbye Sorry I am So lucky Va bene Questo qua Succede qualcosa Ah si si sto qua Questo è il famoso pistolino d'oro Il marchio Eh vabbè Allora questo Si ma allora Questo succede qualcosa Guardate Il Il sugo Il sugo Guardate Questo Questo Desce il sugo Anche dagli occhi Dai Non fai paura Si è un cesso di gioco Premete soltanto questo Tante volte Guardate cosa succede Guardate Premete Trovate un foglio Guardate Avete finito il gioco È finito Pronto Pronto Chi è Si Brava Epic Un saluto Al vostro Ministro Ultracaps Che vi saluta A tutti E a quelli Che mi guardano Perché Siete dei grandi Vi ringrazio Tutti i iscritti E ciao gente È tutto qui Dovevo dire Ciao a tutti Ciao a tutti